Chi ha successo dà fastidio, perché c'è tanta invidia, cattiveria, gelosia, questa è la cosa più brutta nella vita, io non giudico mai nessuno perché non mi piace guardare quello che hai tu, che a me manca e viceversa, quindi dobbiamo prendere veramente la vita pensando tutti i giorni alle cose belle che abbiamo.